Ciao ragazzi! Un veloce ma importante update relativamente ai P1559. Abbiamo finalmente le date di lancio delle testnet. Come spieghiamo nel precedente video, lo trovate qua, gli impatti che si avranno con i P1559 sono veramente molto importanti, sia per i miner che per i trader e soprattutto per gli holder. Tim Beko ha rilasciato di recente un'intervista dichiarando esattamente quali saranno le date in cui questo improvement verrà inserito nelle testnet. Per quanto riguarda la prima, RAPSTEN avverrà il 24 di giugno, quindi ormai tra pochissimo, successivamente il 30 di giugno sull'altra testa in Gurley ed infine il 7 luglio su Rinkeby. Ricordo per chi non lo sapesse che le testnet altro non sono che delle simulazioni della rete di Ethereum parallele, che quindi non girano sulla mainnet, ma che a tutti gli effetti sono una rappresentazione molto fedele, per cui appunto vengono utilizzate dagli sviluppatori per testare diversi algoritmi e diversi improvement e in questo caso quello che ci interessa è per i P1559. Come ho spiegato nel precedente video, gli impatti principali saranno due. Verranno completamente bruciate le fee, che ad oggi vengono remunerate poi ai miner, che appunto rappresentano il cuore pulsante della rete Ethereum, e verrà aumentata la capacità per singolo blocco. Per quanto riguarda quali effetti si ipotizza che porteranno, vi rimando appunto al precedente video. Voglio ora invece farvi vedere gli impatti che possono esserci solamente sulla quota delle fee, perché diciamocelo, nelle ultime settimane sono state molto molto basse, quindi la variazione che ci sarà per quanto riguarda l'immunazione per i miner, quando avrà implementato i P1559, dal mio punto di vista saranno molto simili alla situazione attuale, ci sarà una variazione minimale, probabilmente intorno al 10%. Andiamo a vedere. Facciamo quindi un velocissimo focus per i miner all'ascolto. Come potete vedere da questo portale che è molto utile, ve lo suggerisco, BtInfoCharts, troviamo vari dati riguardanti appunto Ethereum. Su due in particolare volevo concentrarmi adesso. Sulla mining profitability, ovvero i dollari al giorno che si guadagnano per ogni mega hash al secondo, quindi il mega hash perché non sapesse un parametro di calcolo relativo proprio alle GPU. E in questo momento è estremamente basso, diciamo i minimi storici, da circa all'inizio del 2021. Andiamo a vederne appunto il grafico. Questo è appunto il grafico sugli ultimi sei mesi. Come possiamo vedere all'inizio del 2021 il valore era assolutamente paragonabile a quello attuale. C'è stata poi una costante crescita nel corso dei mesi successivi dovuta anche al valore di Ethereum che è cresciuto e non poco. Un picco circa un mese fa, che ha raggiunto livelli veramente molto alti, circa sei volte l'attuale profittabilità. E infine è continuato a riscendere, non solo questo chiaramente dovuto al valore di Ethereum che un pochettino è riuscito nelle ultime settimane, ma soprattutto a causa delle fee che sono diminuite e parecchio con la rete scarica, transazioni più veloci, anche sia tempi che di esecuzione che costi per effettuare le transazioni più veloci. L'altra faccia della medaglia è la remunerazione per i miner che è diminuita, arrivando appunto adesso a circa 006 dollari al giorno per mega hash. Andiamo a vedere invece l'altro parametro che dicevo, sono due parametri molto importanti in questa pagina, soprattutto per i miner, ovvero le fee reward. Questo rappresenta la percentuale di fee che vanno appunto nel reward per blocco. In buona sostanza, quanto influiscono le fee rispetto al classico block reward di due et. Che qui possiamo vedere è praticamente parallela alla discesa appunto rispetto alla profittabilità, esattamente quello che stavo spiegando poco fa. In questo momento la percentuale è molto bassa, le fee rappresenta circa il 12% del total reward, il restante chiaramente è dato dai due et di blocco. Ed è per questo che dicevo poco fa che secondo me quando verrà implementato i P1559 non è che cambierà di molto rispetto alla situazione attuale del reward. Chiaro, se la si paragona all'inizio maggio è tutta un'altra vita, tutta un'altra storia, ma rispetto alla situazione attuale diciamo che può essere come un primo assaggio per i miner di quello che succederà a breve. Piccolo flash relativo a Kage, non c'entra niente con Ethereum, però era diciamo un token che ho seguito in un paio di video, ho spiegato come acquistarlo su PancakeSwap e anche come venderlo. Oggi ha fatto un bel gain dovuto soprattutto al fatto che è stato listato su un exchange, su BixX e appunto come capita spesso in queste situazioni avviene un bel pump. Oggi siamo su circa un 144%, è raggiunto anche il punto del 200% poco fa e chiaramente il token sapete come la penso, sono un forte sostenitore, però per chi è interessato appunto ho fatto di video che linko di nuovo qua, sia per come acquistarli che per come venderli. Chiaramente visto il gain si potrebbe anche pensare di fare un po' di cash out o dall'altro lato se ci si crede invece continuerà a tenerlo, visto che l'ingresso nel primo exchange sicuramente è significativo. Se poi ce ne saranno gli ulteriori è chiaro che il prezzo continuerà a salire. Benissimo ragazzi, vi ringrazio, spero che questo update molto time sensitive possa esservi stato utile. Vi ricordo che se volete restare aggiornati di iscrivervi premendo sul pulsante sotto, quale o non quale il video che è esemplificativo, nel pulsante sotto di iscriviti. Se volete anche le notifiche quando pubblico nuovi video e in questo caso il contenuto è veramente time sensitive, cliccate anche sulla campanellina. Intanto io vi saluto e vi auguro buon weekend. Ciao belli! Grazie! 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 Grazie!